E' l'ultima, secondo il termine, consiglio di amare, 5 punti. E' niente, però è stato presidente, caro sindaco, dopo vista dei molti di questo sindaco comunale, come facciamo a non intervenire in quel momento. Sono mesi, sono mesi che si registra in questo Consiglio Comunale, da diretti di un amministrativo interno della stessa maggioranza, specificamente con il Partito Democratico, oggi può apposta che deve dimostrare che il titolo Statici non sia lontano. Io lo dico già, in termini non sospetto, in quanto a farci un Consiglio Comunale. No, Pasquale, la politica è una cosa vera, non si parasse che il Consiglio Comunale è una grande violenza evidente della città di Castoro, si deve essere conseguenziati. E credo che sia proprio responsabilità, anziché di arrivarsi dal nuovo Consiglio Comunale al che sono, io poi mi comando, perché non si deve essere inscrizione che il Presidente del Consiglio, del Modo. Lo sape, io come ho comodo a nome della oposizione, noi siamo noi, 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 Preparate un documento di distribuzione a questo, prendete la responsabilità, e non è di salvo, io capisco? Hanno una possibilità del Signore Comunale, qua, che è così, 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 che è così. Un'unica lingua politica, inizia a noi, come sonoani, che non si occorre, inizia alimento del Consiglio ci dice ci dice, pergnà di stati comando che è così, come voi, inizia a così, che è così, che il Presidente del Brasol evredo il Consiglio, dicono di qualsiasi Said sano. E allora, qui viene inizia a sobie, però, berti da supponcinin одном avic penguin. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie.